Molti mi hanno chiesto qualcosa di veramente sorprendente a fine pasto Qualcosa che non si è ascoltato, qualcosa che lo rende unico Benvenuti su Storace Wine, la tua nota online di fiducia Oggi vi parlerò di Regina di Felicità Prodotto fatto da Natalino Simonetta Cascina Barricchi Produzione annua 2000 bottiglie Parliamo di un moscato, ma non un moscato qualunque Un moscato dove all'interno troviamo un prodotto Ice Wine Cosa vuol dire? Una parte dell'uva di questo moscato viene lasciata lì sul vigneto La vendemmia viene portata all'estremo, quindi a novembre inoltrato Si aspettano le gelate, quelle fredde Per far sì che l'uva faccia una patina di ghiaccio Dove preserva tutte le complessità organolettiche Ma anche quelle olfattive Il prodotto si arricchisce di materia e anche di complessità polifenoliche Perché è unico? Perché è l'unico prodotto che viene fatto così Quindi selezionato, raccolta manuale, vendemmia notturna Per far sì che la gelata venga e che si preservi questa patina di ghiaccio Criomacerazione naturale sostanzialmente Il prodotto poi viene assemblato e viene rifermentato e poi imbottigliato Cosa ci aspettiamo da questo vino? Beh sicuramente un corredo aromatico complessissimo Qual è la differenza rispetto agli altri moscati al prato? Beh lo si percepisce subito È come se bevessimo un passito spumantizzato C'è quella sensazione di dolcezza, avvolgenza degli zuccheri di fruttoso dato al moscato Ma anche grande freschezza e acidità e bevibilità Su cosa l'abbinerei? Beh sicuramente sui dolci Azzarderei su qualche formaggio Ma dolci cremosi Quindi crema chantilly Mille foglie per esempio Mi viene in mente subito Pasta sfoglia ma anche pasta frolla Quindi un dolce a base di crostate con confetture Ma perché no? Anche su biscotti Cantucci O semplicemente per convivialità Temperature di servizio 4-6 gradi Anche 8 Non servitelo ghiacciato Perché perderemo molto di corredo aromatico Da Storace Wine è tutto Alla prossima